L'Aido a Collisioni, cosa significa la vostra presenza qui oggi? Significa sicuramente una grandissima opportunità, essere a Barolo è un evento importante, spesso direi come Collisioni con un palmares di rockstar internazionali e nazionali, sicuramente porta a avvicinarsi a tantissima gente, avvicinare un pensiero, una riflessione legata alla donazione degli organi e magari speriamo un'adesione importante e nutrita e numerosa di persone che credono in un gesto generoso, altruista, quale quello della donazione degli organi. Chiediamo al Presidente quanto è importante essere donatori dell'Aido? Oggi come oggi è ancora più importante perché Aido ha superato il 1.400.000 iscritti in Italia, siamo una realtà importantissima in Piemonte, siamo la regione che in assoluto produce più trapianti tra virgolette nell'ambito nazionale, siamo oltre 100.000 iscritti ma siamo qui nella provincia che in assoluto, quella di Cuneo, ha l'obiettivo maggiore, cioè si è posta all'obiettivo di arrivare a 20.000 iscritti nell'ambito di questo ultimo mandato. Quindi siamo anche qui a Collisioni per promuovere ulteriormente questa donazione per far sì che i nostri iscritti crescano ancora di più, in maniera ancora più importante perché le 9.000 persone che sono tuttora in attesa di un trapianto possono avere una speranza in più della propria vita.